Prosegue come da cronoprogramma l'aggiornamento dell'agenda digitale in Puglia. Lo strumento, approvato nel 2023, prevede un doppio orizzonte temporale, uno di medio termine fino al 2026, in linea con le tempistiche del PNRR, e uno che guarda al 2030. Oggi, nell'ambito dell'87esima Fiera del Levante di Bari, si è riunito l'osservatorio regionale proprio per fare il punto della situazione. Abbiamo fatto due azioni importanti, una che riguarda la trasformazione digitale del nostro ente, e l'altro è quella relativa alla crescita digitale del territorio. Su queste politiche, l'impatto, abbiamo provato a lavorare in sinergia con gli incentivi, finanziamenti del PNRR, anche legati ai punti di facilitazione digitale. L'agenda digitale continua dunque a crescere. Un nuovo bando permetterà presto di digitalizzare anche i comuni più piccoli per facilitare ancora di più la vita dei cittadini. È proprio su un bando che abbiamo aperto le scorse settimane, che sono arrivate tantissime domande, sul creare gli archivi digitali, cioè su portare i comuni a portare tutto il cartaceo in digitale. Questo è utile perché poi i cittadini possono accedere facilmente al proprio fascicolo del cittadino. Quando avremo realizzato e completato questo processo del fascicolo del cittadino, i cittadini vedranno una pubblica amministrazione più facile e più al servizio, magari perché no a portata di mano, che è il senso con cui da Speed al Pago Pia si stanno rendendo i servizi sempre più digitali. Ma l'obiettivo della Regione Puglia è anche avvicinare al mondo del digitale i cittadini meno avvezzi alle nuove tecnologie. Su questo un grande impatto hanno avuto i punti di facilitazione digitale già attivati sul territorio. I primi dati che abbiamo è che abbiamo aiutato oltre 70.000 cittadini, siamo presenti in ogni angolo del territorio perché abbiamo aperto oltre 220 punti, abbiamo fatto anche i punti di ineranti, li abbiamo aperti in ARPA, li abbiamo aperti in Ares, quindi nelle nostre strutture sanitarie, quindi non sono i centri per l'impiego, ma abbiamo avuto una grande collaborazione negli ambiti sociali di zona e dei comuni che si sono inventate tantissime iniziative pur di coinvolgere i cittadini, dal comune di Trepuzzi che ha inventato un'azione sulle marine di Casalabate, chiamando Casalabait, ai cittadini che al comune del nord Foggiano sono riusciti a fare azioni di coinvolgimento in strutture più per anziani, perché poi in fondo i servizi digitali ormai stanno diventando un obbligo, una facilità, ma questo accesso deve essere fatto in sicurezza e quindi stiamo dando una mano importante. Naturalmente i progetti non finiscono qui, sempre nell'ottica di una maggiore digitalizzazione e informatizzazione del territorio. Ci sono dei progetti in divenire, stiamo per lavorare su un tema legato all'intelligenza artificiale, vogliamo costruire delle vere e proprie palestre di innovazione che riguardino sia le imprese, quindi in collaborazione con le Camere di Commercio, ma anche e soprattutto con i ragazzi per stimolarli alle opportunità che dà il digitale, per una crescita digitale all'intero territorio e quindi a pubblica amministrazione che sia sempre più attenta verso queste nuove esigenze.